Ciao ragazzi sono Ceno Kakuna e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Pocket Edition per mostrarvi una custom map che introduce una casa che si costruisce da sola Ma come sempre prima di iniziare vi consiglio di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in da delle notifiche per non perdere nessuno il suo video Detto questo beh iniziamo Innanzitutto uscendo dalla saletta dei crediti beh vi farò vedere come funziona questo tipo di casa che si costruisce da sola Qua vedremo delle indicazioni di alcuni comandi o meno ma chi se ne frega E ora e davanti ci troveremo una sorta di base Che da una parte ospiterà un pulsante che attiverà il tutto tramite un command block Invece dietro di noi potremo switchare fra game mode survival e creativa Difatti lo stesso creatore ci consiglia di metterci in creative per avere una visione migliore del processo di costruzione Ma ora premiamo questo pulsante e vedremo il tutto Sta per iniziare il processo, il building process Già come prima cosa vediamo gli alberi che vengono generati e si distruggono Così da raccogliere ogni loro pezzo in un unico tronco orizzontale E ora si è formato una crafting table E altre tre, cosa cavolo? E pian piano si sta trasportando verso questa parte A seguire vediamo un'esplosione accanto e da fuori escono un'ascia di cobblestone Che da una parte va a creare il pavimento della casa e dall'altra invece va a craftare una fornace E ora dovrebbe venire il turno di un altro oggetto Ecco la clay che si va a trasportare verso La fornace però stranamente non si cuoce Ma assembla gran parte della casa Ho dei fulmini e quest'ultimi hanno cotto la clay Una cosa abbastanza figa e originale A questo punto si aggiunge la parte in legno ai lati Manca solo l'ultimo E ad essere sinceri questi movimenti di blocchi Danno quasi un effetto gradevole alla vista Dovremmo solamente aspettare che si formi Le entrate e anche la vetrata Sempre con questo effetto di esplosione molto figo Il tetto, lo scalino, questo non me lo sarei mai aspettato Ai lati due papaveri e ora viene il turno di un blocco di sabbia Ah vero, serve bella vetrata si Tutto sommato le azioni per la creazione di questa casa Beh sono molto interessanti Però non ho capito la parte iniziale che è stata un po' bizzarra Ma comunque Ah c'è anche la porta si con i due blocchi di asse intagliata Anche la terra zappata con il grano E la recinzione Beh Credo che la casa sia finita qui Almeno spero Perché è stato abbastanza lungo il processo di building E quindi Che possiamo dire Non è che è così carina Esatticamente Però Però come casetta in una survival Beh ci può stare Vado che ci sono le cose basilari Come dormire Craftare e anche cucinare E cosa trovo io in questa cesta Mamma mia Quanti oggetti incantati In più anche la testa del creatore A questo punto Credo che il video Può finire qui Se per caso vi stavo di granimento Lasciate un bel like Iscrivetevi e commentate E in descrizione Troverete il link della mappa E anche il tutorial Su come installare le mappe Per chi non lo sa E quindi Ci vediamo alla prossima gente Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti